Che cosa è? La contatto dal CAB, il centro assistenza a Bollete, devo dare una comunicazione per l'utente in via Malfitano a Cagliari. Centro assistenza a Bollete? Ma è un ente pubblico? Chi è? Che ente è? Regionale? No, siamo appunto un ente pubblico. Un ente pubblico? Un ente pubblico che lei paga in fattura per quanto riguarda la gestione del contatore della luce in via Malfitano. Dal momento in cui è attivato l'utente a suo nome, è automaticamente diventato nostro cliente. Quindi il fornitore ci occupa in questo caso di erogare l'energia dei consumatori, noi ci occupiamo invece di gestire i contatori, di amministrarli. Quindi, come ne dicevo, in questo caso la stiamo contattando perché dal pod del contatore della luce sono stati rilevati i massimali attivi. Addirittura, massimali attivi? Questi massimali sono degli aumenti sulle tasse e sono dovuti dal fatto che il fornitore a cui attualmente si è agganciato non centralizzi sul suolo nazionale. Non c'è sul suolo nazionale. Non c'è sul suolo nazionale. Ha chiuso.